Con l'arrivo dell'estate l'allarme in centi si alza ad un livello di allerta massima, soprattutto nelle zone in cui ci sono numerosi terreni incolti e alte sterpaglie, complice il Gran Caldo e l'azione a volte distruttiva dei piromani. A farne le spese sono spesso le immediate periferie del centro urbano, le aree boschive, la macchia mediterranea. Fiamme che in taluni casi, complice il vento, si propagano con facilità, minacciando anche le abitazioni limitrofe alle aree verdi. Un'emergenza che viene fronteggiata, pur con le poche risorse di mezzi e uomini a disposizione dai vigili del fuoco e dal corpo forestale. Ci accendiamo ad affrontare questa nuova stagione estiva che non si presenta diversamente dalle altre. Il nostro impegno sul territorio è garantito, lo faremo attraverso gli uomini che operano presso la sede centrale di Caltanissetta e presso gli altri distaccamenti distribuiti in provincia, che voglio ricordare semplicemente, Mussomeri, Mazzarino, Gela, ai quali si aggiunge anche il distaccamento volontari di Niscemi. Complessivamente riusciremo a mettere in campo sei squadre, alcune volte anche sette squadre, ma sono quelle che normalmente operano sul territorio durante l'arco delle 24 ore per tutto l'anno, perché non abbiamo avuto risorse proprie per il potenziamento degli organici in occasione della stagione estiva che si approssima, ne sono state stipulate, questo purtroppo da diversi anni, quelle convenzioni che consentivano ai diversi comandi provinciali di aggiungere delle altre squadre al dispositivo di soccorso normalmente dispiegato, proprio per venire incontro alle maggiori e accresciute esigenze della stagione estiva. Un lavoro che porterete avanti in sinergia, come dicevo nella domanda principale, con anche il corpo forestale? Sicuramente sì, come tutti gli anni, anche loro mi pare abbiano incontrato delle difficoltà almeno in questa fase di avvio, in questa fase iniziale, perché il reclutamento dei diversi contingenti di uomini che consentono loro di fare opera di estensione degli incendi nelle aree boscate in particolare è stato ritardato proprio dalla mancanza di risorse finanziarie. Credo partiranno a breve, non so se con gli stessi contingenti degli anni trascorsi oppure di altri, però abbiamo sempre lavorato in strettissima sinergia, peraltro c'è questa novità in assoluto che interessa anche in parte il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il passaggio all'arma dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato che qui in Sicilia rimane una reforma inattuata perché le competenze continuano a rimanere in capo alla regione siciliana attraverso il Corpo Forestale regionale. Quindi per noi nulla è cambiato rispetto a prima, quindi le sinergie collaudate e sperimentate nel corso degli anni scorsi saranno ovviamente riproposte nel corso di quest'anno.